Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 2 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Amicizie come fiori di primavera. L'argomento lavoro oggi per voi è tabù, se ce l'avete e arrancate per arrivare a fine mese non dite nulla solo perché siete i taciturni dello zodiaco, ma dentro ribollite. Con il caro vita sempre più allarmante, l'elemosina di 80 euro in tredicesima la restituireste volentieri al mittente, ammesso e non concesso che arrivi davvero. Sì, l'occupazione è il vostro cruccio, se non appartenete alla cerche dei prediletti, figli di. nipoti di. Garanzie di un'occupazione decorosa, remunerata al giusto diventa un miraggio. Non siete voi a parlare, ma mercurio arietino incollerito allo zenit, niente soddisfazioni professionali, dunque, anche se avete un bel cervello e tanto meno finanziarie, le uniche gioie oggi vi provengono dal cuore, calde amicizie, stessi gusti, stessi interessi, stessi problemi. E non ha detto che ora che venere abbracciato al sole una di queste non diventi amore. Se son rose fioriranno, sentenzia il proverbio. E maggio è proprio il mese delle rose. Desiderio di avere una figlia, e non è escluso che questo possa essere presto e saudito. In amore il rapporto che si ha è con una persona dalle buone risorse economiche, molto solido, o comunque con ottime e buone prospettive. Sono in arrivo piccoli vantaggi di ogni tipo, particolarmente quelli economici. Un buon momento per tentare la fortuna al gioco, ma moderatamente. Qualche piccola soddisfazione vi rallegrerà le giornate. Se avete un problema d'amore non voltate la faccia dall'altro lato cercando di ignorarlo o, peggio, di far finta che non esiste. Se avete qualche problema o con il partner o con una persona con ossicuta da poco non fate finta di niente ma affrontatelo in giornata. Oggi potreste ricevere qualche risposta negativa da parte di un amico a cui avete chiesto un favore. Non prendete vela e cercate subito di capire come fare per risolvere la questione. Dopo alcuni giorni di tranquillità oggi potrebbe esserci uno scossone emotivo. Un'intesa si cementa e si intravede un periodo di serenità e pace per voi. Ottimi i rapporti con colleghi e collaboratori. Molte cose sono ormai passate nel dimenticatoio, ma c'è qualcuno che vi pensa e che potrebbe rifarsi vivo da un momento all'altro. Farai parlare di te. Religione, filosofia e giustizia ti attireranno ma cerca di rispettare le opinioni altrui e non lanciarti in qualche battibecco per riaffermare le tue convinzioni. Insofferenza. Evita di dire ciò che pensi senza prima riflettere. Conta pure sulla Dea bendata e sugli amici. Serata piacevole per i nati di domanica e sabato. Spendete del tempo per voi e per informarvi su delle cose che è importante che sappiate. Se potete dedicate del tempo a voi stessi e curate la vostra persona senza trascurarvi. Oggi alcuni amici non vi saranno di conforto, in realtà è un periodo per voi difficile e vi lamentate troppo delle vostre disavventure. Iniziate il mese con il sole, venere, Saturno e Nettuno tutti e quattro vostri amici e transitanti nei segni congeniali del toro e dei pesci. Malgrado qualche piccola nube passeggera che si addensa nel settore familiare e amichevole e sembra identificabile nel transito odierno di Marte e Mercurio nel segno dell'Ariete, riuscite a gestire egregiamente ogni inciampo. Nonostante Mercurio iperattivo allo Zenit non siete tipi da approfittare di ogni giornata libera per andarvene a zonzo, state bene anche a casa, nella vostra città circondati da persone care, come lasciano intendere il sole e venere abbracciati in se stile. Poche chiacchiere, con la luna malmostosa zittita da Plutone non sarete voi a raccontarle, piuttosto ascolterete volentieri le narrazioni altrui, storie di viaggi, di successi e anche di giuste rivendicazioni. Oggi primo maggio non si festeggia soltanto, si apre il cosiddetto. Libro dicendo, pane al pane, vino al vino. Un conto è quello che si vuol far credere per prendersi gli applausi, un altro la realtà, certo di sicuro non così idilliaca e promettente come sembra. Molti dei vostri amici fuggiti all'estero o ancora a spasso in attesa di. Augurandovi di non invecchiare tutti quanti continuando a coltivare un sogno che non si realizzerà tanto facilmente. Amore ed Eros Dall'amicizia all'amore il passo è breve e voi, intuitivi come sempre, sentite che sta arrivando il momento. Una tenerezza sempre più avvolgente, un desiderio inespresso li percepite a pelle, anche senza parole. Simpatia e incoraggiamento anche in famiglia e dalla solita compagnia, forza provate a fare il primo passo, non sarà così difficile come ve lo siete figurati. Lavoro e denaro Clu della giornata, se ci siete per turno fate di necessità virtù, liberi di muovervi seguite qualche collega con ruolo sindacale. In piazza troverete tante storie uguali alla vostra, progetti di opposizione alle regole vigenti, sempre dalla parte di chi un posto al sole già ce l'ha. Sentirvi rappresentati da una folle, tante teste ma stesso problema, vi dà forza, bello sapere di non essere soli a combattere. Sia pure contro i mulini a vento. In viaggio ve la godete un mondo, soddisfatti dell'itinerario scelto, costo minimo ma una bellezza da togliere il fiato. Benessere Un filo di nervosismo, indizio che vi siete svegliati male. Si placherà col passare delle ore, in mezzo alla gente o nella natura, facendo qualcosa che vi piace o che sentite giusto. Essere in sintonia col proprio universo interiore placa l'inquietudine e fa sentire bene. Come una canzone. A proposito, ottima idea il concertone, essere uno nella folla con tanta musica ed entusiasmo, da ripetere anche l'anno prossimo. Per lei, se un principe nella vostra vita non è approdato non ne fate un dramma, avete tante buone amiche con le quali condividere sogni ed emozioni. L'essenziale è avere degli affetti e dei punti di riferimento. Per lui, se con lei ci state ormai da anni ammettete entrambi che il rapporto si sta facendo meno passionale, la più complice, notti tenerissime targate a Markord. Farebbero sorridere Fellini, riempi di ragazzaccio anche nella terza e quarta età. Colore delle emozioni, albicocca. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.